E' arrivato il momento di svappare, svappo web! Siamo qui per ascoltare i nostri alunni. Ogni anno ormai è diventata una tradizione. Sono quattro anni che i nostri alunni si esibiscono. Noi abbiamo l'indirizzo musicale e chiaramente sono i ragazzi dell'indirizzo musicale che ci offrono delle cose bellissime. Tuttavia quest'anno abbiamo anche i ragazzi che non seguono specificamente l'indirizzo dei quattro strumenti. Tutti hanno fatto un'ottima figura perché sono stati in grado di farci vivere dei momenti straordinari. In pochi mesi sono stati in grado di imparare dei pezzi anche piuttosto complicati. E ci hanno regalato appunto questi momenti straordinari. Che altro dire? Oggi è un giorno di festa per noi. Quindi veramente celebriamo la fine di un anno difficile, complesso, ma penso abbastanza fruttuoso. Quindi stiamo raccogliendo un po' i frutti di un anno di lavoro.